Si dà il coscienza? Vi ringrazio Siete contenti? Molto, assai Permettete Signora mia moglie Agnusco Che c'è? Non ce la va? Sì Eliminate vostra moglie Eliminate vostra moglie Ma la devo uccidere? Uccidere? No, dicevo eliminatela con una scusa, un pretesto Ah, allora allontanate vostra moglie No, io mi credevo che per 400 litri doveva c'erare Mi devo parlare di un affare importante Eh, allora la vado a eliminare Certo, prego Cresì Fatte la nuova Io ti stai facendo per 400 litri Va, vado a prendere la scusa Muzzanella, trovo, la macchina Va, va, forse Ho eliminato mia moglie senza spargimento di sangue Benissimo Don Giovanni, ma voi vi trovate bene in questa casa? Beh, casa è una parola grossa È un tetto sulla testa Però, avvocami, dovete credere Umida, proprio Umida, fredda Il gelo proprio Il gelo, guardate Non ce sta niente Abbiamo dovuto togliere i vetri Perché succedeva Un fenomeno strano Si appannavano dalla parte di fuori Tanto è il gelo Tanti e mia moglie Quando cerchiamo un poco di calore Ti affacciamo la prima resta e ci rendiamo un poco di calore E quanti ambienti ci sono? No, l'ambiente è unico solo Un ambiente è unico C'è un rifugio peccatorio Dove c'è un lettino singolo Dove ci corrighiamo mia moglie Facciamo a turno Non do panare Ultimamente sto sempre io sopra Perché mia moglie Se fattano poco gli altri lettini Non la reggo Non ce la faccio a sostenere Pago 4.500 lire di piggioni al lì